Da qualche anno siamo impegnati in un progetto di collaborazione internazionale italo-albanese in collaborazione con l'Istituto di archeologia di Tirana per lo scavo e le ricerche archeologiche in uno dei monumenti più importanti e significativi dell'Albania, ovvero l'Anfiteatro Romano di Durres. Si tratta dell'unico anfiteatro noto in Albania e di uno dei più grandi dell'area balcanica. Il nostro progetto di ricerca è focalizzato nello scavo del settore meridionale dell'Anfiteatro e finora ha restituito un'interessante sequenza insediativa di occupazione, di vita, dal periodo post-classico, ovvero dalla tarda antichità, grossomodo dal V secolo, fino all'età contemporanea. Una sequenza serrata, una sequenza che denota tutta la vitalità di questa città, che è una delle più importanti dell'arco adriatico e in cui abbiamo avuto la possibilità di rilevare archeologicamente, strutturalmente e materialmente queste occupazioni che vanno dalle funzioni abitative e residenziali a quelle artigianali, a quelle funerarie. Insomma, l'Anfiteatro di Durres è una testimonianza davvero sorprendente che ci porta a considerare il ruolo di questi grandi spazi, di questi grandi monumenti pubblici di epoca romana, che in epoca post-classica diventano in tutto e per tutto dei quartieri della città, degli spazi monumentali che vengono rifunzionalizzati, quindi per altri tipi di occupazione e per altre funzioni e che ci danno la possibilità di sfogliare e di leggere tutta la sequenza che si è stratificata in una città a continuità di vita e che quindi è un caso eccezionale nell'ambito della ricerca archeologica per lo studio e per la ricerca relativa alle trasformazioni non solo degli edifici per spettacolo di età romana in età post-classica, ma anche per capire e comprendere il divenire delle città fino ai nostri giorni.